L'anno scorso la festa della Toscana non la potevamo fare perché eravamo in piano Covid, eravamo in una situazione in cui vivevamo anche più di 15.000-16.000 contagi a settimana e oggi ne abbiamo 3.200, così come l'anno scorso vivevamo anche 70 morti il giorno, ieri sono stati 4 in Toscana, con ospedali che avevano anche un'occupazione che andava a 3.000 con quest'anno che invece sono 315, la festa della Toscana l'abbiamo potuta rifare e l'abbiamo potuta rifare come avviene da 20 anni, dal 2001, anzi la prima manifestazione la fece il Comune di Firenze nel 2020, all'insegna di questo messaggio che è di rievocazione storica, sì, ma soprattutto è di proiezione verso il futuro. Fumo il primo stato al mondo 235 anni fa, era il 30 novembre del 1786, ad abolire la pena di morte. Oggi è abolita in 106 paesi del mondo, su circa 200 stati del mondo. Ancora più della metà della popolazione della terra vive in paesi in cui l'ordinamento penale chiede come estrema razza, ma comunque la pena di morte. Ecco, i valori di civiltà, dell'umanesimo, dei diritti, della libertà, che la Toscana sempre esprime per prima, 235 anni fa, sono attuali, perché c'è ancora circa quasi 100 paesi, più della popolazione mondiale, da liberare dal sapere che un giudice può condannarti alla pena capitale.